Una storia che abbraccia quattro generazioni di donne controcorrente lungo tutto un secolo. Una divertente saga familiare in cui si muovono figure femminili con una spiccata personalità inquieta e geniale, intrecciando amori, delusioni, tarocchi, magia, madri e figlie consigli al seguito che hanno la forza di prendere a schiaffi la sorte per ritagliarsi il loro ruolo nel mondo. Il destino dell'Ortica è l'esordio letterario di Flavia Cercato che ha aperto l'ottobre di Zenzero Fest. Cinque donne si passano il testimone e di epoca in epoca arriviamo fino ai nostri giorni. Ogni donna è protagonista di un diverso capitolo ambientato in un'epoca diversa ma sempre a Roma, nel quartiere Coppedè, in una casa che si chiama il Villino delle Fate, che esiste veramente. E siccome il destino dell'Ortica è un libro un po' magico, nel senso che all'interno si parla anche di quelle energie che non si vedono ma che alcuni percepiscono, si parla dell'aura appunto che circonda ogni corpo ed è un campo energetico che può assumere un colore differente a seconda dello stato della persona e mi piaceva che fosse ambientato in una casa magica anche lei. Il calendario di ottobre di Zenzero Fest prosegue nella sala della biblioteca della città di Arezzo con l'appuntamento dedicato al calciatore amato e apprezzato per le sue doti sportive e qualità umane prematuramente scomparso Gianluca Vialli. Un atleta, uno sportivo ma sicuramente anche una persona per bene nella vita normale e scopriremo tante curiosità, tanti aneddoti che ci racconterà Marco Gaetani che lo ha studiato veramente a fondo.